Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonosporZova7 Ragazzi abbiamo tanto di cui parlare perché è stata una gara veramente pazza Ed è micidiale come questa gara sostanzialmente si è decisa sulla scelta finale Di fermarsi o non fermarsi per montare le rail ragazzi per montare le gomme da bagnato Quindi anche abbastanza fortunosa perché tu in una gara magari Se hai distacco dall'auto davanti ed era anche un circuito dove più o meno tutti avevano lo stesso passo Se hai un'auto davanti che ti va che ne so mezzo secondo al giro più veloce Perdi magari una ventina di secondi durante tutta la gara E con quella scelta finale lì se ci azzeccavi male perdevi circa 50 secondi ragazzi Perché Norris ha perso 50 secondi con quella scelta Verstappen ne ha guadagnati invece altrettanto E quindi insomma ragazzi non è sicuramente la scelta Non è stata sicuramente la scelta migliore Ma dove comunque lì vai è intuito Tu vedi le previsioni meteo ma non puoi capire Non sei un meteorologo Vi chiedo scusa per la voce perché comunque Purtroppo sono mezzo raffreddato Ma ho anche questo video con felpa e orologio Ferrari Apprezzate almeno questo sforzo perché vado girando ancora con le maniche corte E maledetta a me che ho preso il raffreddore e ho messo la felpa solo per voi Diciamo che c'è entrata abbastanza la fortuna E mi sembra ridicolo dire Sainz pilota ipersolido Perché oggi ho fatto Vabbè lo sappiamo che Sainz è solido Non voglio sminuire Sainz Non voglio sminuire Hamilton Anche se nel caso di Hamilton c'è poco da criticarlo Perché era in lotta con Norris per la prima posizione Ed è incredibile come sull'asciutto Perché ragazzi la gara è stata sull'asciutto Hamilton non riusciva a prendere una McLaren E ora la McLaren ha fatto dei passi enormi avanti Il distacco da i top team fino al centro gruppo è diminuito Però è incredibile come Hamilton non sia riuscito sull'asciutto A riprendere Norris Ed era successo anche in Gran Bretagna con le Clerc Quindi non lo so Se ci sono problemi di turbolenza o cose simili ragazzi Cioè che c'entra molto la fortuna E trovo ridicolo parlare di Verstappen straordinario Verstappen oggi è stato fortunato Io sono uno che nell'arco del mondiale Io se vado a vedere Verstappen merita di stare 50 punti sopra Hamilton E se volete ve lo dimostro anche Però oggi è stato leggermente fortunato Così magari come Hamilton è però Abbastanza fortunato oggi Verstappen che curi davanti a lui Non hanno fatto la scelta adeguata Come Alonso, come Leclerc Anche perché Leclerc era al passo con Verstappen E ha funzionato bene questa power unit Perché se sei al passo del leader del mondiale Vuol dire che ha funzionato bene questa power unit per Leclerc Peccato per il quindicesimo posto finale Si fosse fermato due giri prima Avrebbe concluso la gara Secondo o terzo Quindi ragazzi È un po' basata sulla fortuna Fortuna che però ha girato dalla parte di Ferrari Perché anche Norris ha sbagliato la strategia E con Leclerc fuori dai giochi Con Leclerc fuori dai giochi Quindi la McLaren Se Norris avesse mantenuto almeno la seconda posizione Avrebbe guadagnato 16 punti sulla Ferrari Perché Norris secondo Sainz quarto Con Verstappen terza sul podio Quindi Norris su Sainz ne recuperava 7 E con Ricciardo quinto La McLaren avrebbe recuperato 17 punti alla Ferrari Ragazzi Che non sono assolutamente pochi E se Norris invece vinceva la gara I punti erano 24 Invece ne hanno guadagnati solamente 8 Perché Sainz recupera 3 punti su Ricciardo Norris ne recupera 7 Sto contando anche il giro veloce Ovviamente ragazzi Norris ne recupera 7 Su Leclerc Sainz scava anche Leclerc in classifica Però c'è da dire che ogni volta che Sainz arriva sul podio C'è sempre qualcosa che non va per Leclerc A parte che se la deve finire Sembra una maledizione Leclerc in campionato E' andato fuori dai punti 4 volte Di queste 4 è salito Sainz sul podio in 3 occasioni Quindi veramente incredibile Questa cosa per la Ferrari 4 podi stagionali per la rossa Di cui 3 di Sainz Però questi 3 di Sainz Leclerc era fuori dai giochi Perché a Monaco Leclerc aveva fatto la poll Ed è forzato fuori dai giochi Con Sainz che recupera 18 punti su Leclerc Quando magari Leclerc ne avrebbe dovuto recuperare 6 magari su Sainz In Ungheria Sainz recupera 15 punti su Leclerc Quando magari Leclerc che partiva 7-8 posizioni avanti a Sainz Ne avrebbe recuperati di più Stessa cosa magari in Oggi Perché Leclerc secondo me O anche complice alla nuova pari unit Ne avrebbe più di Sainz Solo che è partito dietro prima cosa Seconda cosa si è stato sfortunato Nel finale con quella cosa delle Reign Non Reign Perché quelli che montavano la gomma media Si sono ingolositi da rimanere in pista Invece sono stati più sfavoriti Secondo me da questa occasione Sicuramente Non secondo me Questa è una cosa naturale Che quando inizia leggermente a piovere Quelli che hanno gomme più morbide Si ritrovano meglio E Super Norris Davvero una grandissima gara di Norris Perché oggi non è stato Super McLaren E Super Norris Perché prende 40 secondi a Ricciardo Ragazzi Sull'asciutto Sull'asciutto Fin quando non arrivava la pioggia 40 secondi su Ricciardo Per farvi capire Alla fine Ricciardo ha concluso la gara 30 secondi avanti Norris Per farvi capire Quanto Norris ha perso con quella scelta Era una cosa incredibile Quasi un giro Quasi un giro ragazzi Ha perso Norris Con quella scelta lì Però ha dato 40 secondi a Ricciardo Sull'asciutto Questo significa che non è Super McLaren Sicuramente la McLaren Ha fatto i passavanti Ma è più Super Norris Che Super McLaren Però l'ha perso lui Ha perso Una decina di punti lui Forse anche di più Perché ha ottenuto oggi 7 punti Ne poteva ottenere 18 Ha perso un minimo 11 punti Se eravamo il secondo E ne ha persi Anche ancora di più In ottica mondiale costruttori Quindi insomma ragazzi Cosa le vogliamo dire a Norris Purtroppo Ha fatto una gara storta Perché Dal punto di vista del risultato Perché dal punto di vista Della prestazione È stato sicuramente Eccezionale Super Per Fernando Alonso Che se escludiamo Spada Che comunque è stata una gara Tra virgolette Fasulla Sono 9 volte che arriva Consecutivamente a punti Sesto Ottavo Nono Decimo Settimo Quarto Sesto Ottavo Sesto Veramente Dei risultati Estremamente Incoraggianti Per Fernando Alonso E se togliamo Le prime 5 gare Se la gioca Con le due Ferrari E le due McLaren Per quanto riguarda I punti ottenuti Quindi sicuramente Un super Fernando Alonso E Norris Che non solo Se escludiamo il ritiro È la gara Fasulla di Spada Diciamo così Per Norris Questo è il terzo Peggiore risultato Sessionale Dietro l'ottavo posto In Spagna È il È la cattiva prestazione In Olanda Dove la Ferrari Ha recuperato Un bel po' di punti In quell'occasione La McLaren Malevete Vettel Non mi è piaciuto Durante la gara Alla fine Conclude solo 12esimo Non mi stanno piacendo Queste gare di Sebarsa Nonostante sia Il mio pilota Probabilmente preferito Però oggi Stroll lo ha demolito Nonostante neanche Stroll alla fine È arrivato a punti Però oggi Stroll lo ha sicuramente Demolito Ci vuole qualche altra gara Alla Vettel Per vedere Un po' Perché finora Vettel Se escludiamo la gara di Spa È arrivato a punti Solamente tre volte Anche se Ha quasi il doppio Dei punti Del compro di squadra Non ci scordiamo Che Vettel L'ha avuto anche Una squalifica Dove comunque Potrebbe arrivare Secondo In quell'occasione Ragazzi Male ancora A Tsunoda Perché veramente A Tsunoda Gli servono Le gare pazze Per arrivare a punti Settimo In Azerbaijan Sesto In Ungheria Servono le gare pazze Per arrivare a punti A Tsunoda Però Non mi sta piacendo Veramente Questo pilota Che ha meno di un terzo Dei punti Del suo compagno di squadra E che secondo me Bisognava richiamare Albon in quell'occasione O Kvyat Addirittura Perché secondo me Tsunoda Non garantisce Molto Inconita Bottas Che alla fine Comunque conclude Quinto Perché lui Ha seccato La strategia Per farvi capire Un po' Che Ha terminato Una gara Ancora una volta Avanti a Perez Cioè ragazzi Perez Non ha ancora Battuto Bottas Bottas sono Uno Due Tre Quattro Vabbè In Ungheria Sono ritrati Tutte e due 5 6 Sono sette Gare consecutive Che termina Davanti a Sergio Perez Nelle precedenti tre Perez batte Bottas Nelle precedenti ancora Perez viene sempre Battuto da Da Bottas Quindi veramente Incredibile Come su 15 16 gran premi Perez Avrebbe buttuto a Bottas Solo avete tre volte Nonostante questo Bottas Venga ancora Criticato Quando Perez Guida una Red Bull E si sta giocando La terza posizione In campionato Ma è 31 punti Ormai distante Da Bottas Ma soprattutto Ne ha 19 Da Norris Che guidano McLaren Una macchina inferiore Ne ha poco più Di Sainz Sette e mezzo Poco più di Leclerc 16 Leclerc è stato più ripreso Sfortunato Quindi insomma Hamilton primo nel mondiale Con 5 vittorie Verstappen secondo Quando di vittoria Ne ha sette Ne ne sono state Da virgolette Tolte due In Gran Bretagna E in Azerbaijan Quindi insomma Ragazzi Un mondiale Veramente ancora apertissimo Dove secondo me Ripeto Verstappen Meriterebbe di stare davanti Però è sicuramente Un bellissimo mondiale Oggi Hamilton Ha ottenuto In maniera Straordinaria Secondo me Perché ha fatto La scelta giusta Di montato anche bene La vittoria numero 100 Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Mi lasciate un mi piace Se al contrario Un easy like Commenti se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'avete ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Il link per siccome su Instagram Da monosporti 07 E tutto E noi E anche dalla luce E tutto E noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao